Ospiterà un poliambulatorio per le cure primarie e specialistiche e i servizi dedicati all'assistenza di prossimità. Abitrito in via 8 Marzo, a pochi passi dalla parrocchia della trasfigurazione, sorgerà la prima delle 36 strutture sanitarie realizzate dall'Asla di Bari. La casa della comunità sarà costruita attraverso un investimento del PNRR di circa 1,4 milioni. Un edificio di 650 metri quadri di superficie, nel quale saranno ospitati 7 ambulatori. Fra questi l'ambulatorio infermeristico di assistenza sociale, di assistenza domiciliare integrata e quella medica H12, nonché una sala polivalente. Questa è la testimonianza dove finalmente riusciamo ad arrivare con le strutture di prossimità dove realmente l'utenza trova risposta immediata. Questi sono i primi risultati concreti, perché se ne è parlato per tanti anni, ma adesso arriviamo invece con le strutture che potranno cominciare a dare risposta a questi bisogni. Come illustrato durante la presentazione del progetto, nell'area già perimetrata in cui sono partite le attività di cantiere, la struttura del distretto sociosanitario 9, Modugno, Bitetto e Bitritto, affiancherà le altre case di comunità 36 in totale, per un investimento complessivo di 57 milioni, previste nell'area metropolitana di Bari.